I fratelli Marx Vengono proprio, il tipo di comicità e di humor che hanno i fratelli Marx è quello del Batgen Il Batgen è il progenitore dello stand-up comedian Il Batgen era il comico delle corti rabbiniche nei matrimoni e nelle circoncisioni e nelle occorrenze liete E il Batgen era quello che faceva a pezzi tutti col suo umorismo E l'umorismo ebraico è un umorismo paradossale che gioca sul principio di non contraddizione Che scompagina la logica formale e la logica dello io o tu Per illuminare un piano terzo nella chiave del paradosso Le racconto una storiella che fa capire un certo spirito folgorante Che rompe tutte le convenzioni e fa capire dove affonda le sue radici L'umorismo dei fratelli Marx e anche proprio nell'esplosione del linguaggio Le faccio un esempio, ne faccio un paio Uno è semplicemente una battuta Yankle entra in un ristorante, Caché Kosher, a Varsavia, dove vuole lei, eccetera Entra e uno degli avventori seduto gli dice Yankle chiudi quel diavolo di porta che fa freddo fuori Yankle risponde Perché se chiudo il porta fuori farà meno freddo Capisce? E' proprio lo spostamento della relazione logico-linguistica Per uno l'oggetto è la temperatura interna Per l'altro la temperatura esterna Ora, vediamo la storiella Siamo in una famiglia ebraica ortodossa Una famiglia chassidica, come si dice, con i barbuti, i boccoluti E un padre di questo ritorna dalla sua lunga giornata Fatta di studio, di lavoro I suoi tre marmocchi, uno di tre, uno di cinque, uno di sette Quando lo vedono lo circondano con le loro voci cristalline Lo abbracciano, lo baciano, lui è pazzo dalla gioia E loro raccontano le avventure della giornata Che sono avventure di bambini Ma per loro sono come se fossero dei grandi eroi E lui per provare la devozione ai suoi bambini dice Kinderlach, bambini, vostro papa ce l'ha un sette tremendo Chi va a prendere un bello bicchiere dell'acqua al vostro papa? Allora il maggiore dice Io sono primogenito, mio diritto onora padre E questo, Kibudav, precetto del Bibbia, onora padre, vado io Il secondo genito, cinque anni, spinge il primogenito E dice, io lo do tutti i miei risparmi al poveri Io voglio avere questo onore Il moccioso di tre si alza sulla sedia e dice Io lo do tutti i miei giocattoli al bambini che non ce l'hanno Io voglio questo onore Grande zuffa Però i piccoli da loro, da se stessi, capiscono che litigando non arriveranno al punto Allora chiedono al padre di discutere la questione come i grandi maestri della Bibbia Dialetticamente, secondo il metodo talmudico delle contraddizioni, delle cose Il padre naturalmente è pazzo dalla gioia, vedi questi bambini Sono già dei piccoli sapienti E allora loro si appartano in un angolo della grande cucina E il padre sta lì come proprio un pavone Discutono 45 minuti Il padre è devastato alla secchezza delle facche Dopo ritorno dal padre e il fratellino maggiore A nome del comitato dei fratelli Dice, papa noi abbiamo discusso il questione Abbiamo visto pro contro, qui lì, su giù Tutto abbiamo noi discusso E insieme abbiamo questo deciso Papa, questo è per noi uno troppo grande onore Vai prenditi l'acqua di solo Ecco, questo è lo humor che viene dalla Yiddishkeit Di cui i fratelli Marx usano a piene mani Nella miscela dirompente Che tutto questo Che provoca l'incontro con la condizione pazzesca degli Stati Uniti in quel momento Un paese con uno sviluppo folle Con la società dello spettacolo La società dello spettacolo non è arrivata adesso È Barnum che la fa Proprio Barnum ha inventato reality Il talk show Lui usava anche i grandi personaggi che raccontava le loro vite Dentro il bar Barnum è un assoluto genio Prima ancora di Barnum Buffalo Bill Per cui il leggendario Toro Seduto Uno che veramente ha tirato le frecce Che ha ammazzato i coloni Che si sono combattuti nelle guerre indiane Questo vecchio Viene trasformato in un In un personaggio da van spettacolo E Buffalo Bill Lo sterminatore di Bufali Quello che ha contribuito alla costruzione della Union Pacific Cosa diventa? Un vecchio bolso da circo Che ripete le sue presunte geste eroiche Con calamity Jane Grande pistola E tutto Non si capisce cos'è È in sé una contraddizione da fratelli Marx Cioè La grande epopea Diverendo la grande pagliacciata E tra l'altro Toro Seduto Pianta dei casini sindacali pazzeschi Per essere pagato di più Cioè Noi vediamo queste cose nei western L'epopea L'onore A UG Io tu lingua biforcuta Io calumento la pace E tutte quelle stronzate E i Marx arrivano a quel bagaglio umoristico In quel mondo Lo fanno scoppiare Lo ridicolizzano Li volevano bruciare vivi Perché stavano facendo letteralmente a pezzi La società americana Perché coglievano Perché avevano proprio Quell'umorismo del paradosso E quell'umorismo proprio anarchico Esplosivo Irriverente di tutto Perché l'umorismo ebraico Prende anche di mira il Padre Eterno Anche Mosè I grandi rabbini Figuriamoci se non prendevano di mira La società americana Che era già di per sé stesso Un baraccone in quel momento Il mito Nel mondo della Yiddishkeit Era la zuppa di pollo Zuppa d'anatre È una versione raffinata Chicken soup Le mamme ebree Credevano che fosse la panacea Di tutti i mali E un po' era vero Nel centro-est Europa Da cui venivano C'era la persecuzione La fame Le carestie Gli ebrei erano poverissimi La gran massa degli ebrei Allora si diceva Questo Se un ebreo mangia un pollo Vuol dire che uno dei due È gravemente malato Allora La zuppa di pollo Era la panacea In America Dove c'era abbondanza Di zuppa di pollo Però la mamma ebrea Arrivata lì Non si era adattata Pensava ancora Come quando c'era la miseria Si racconta del bandito Martin Kaplan Che arriva con un coltello Uno dei grandi banditi ebrei Arriva con un coltello Piantato nel costato Arriva fino alla porta La mamma Gratta la porta La mamma apre Lui si accascia per terra E dice Ma Call the doctor I'm dying E la madre gli dice Now you wash your hands You sit at the table You get your chicken soup Then we shall see If a doctor is needed Questo era Cioè Te lavi le mani Vai al tavolo Mangi il tuo zuppa di pollo Vedremo se c'era bisogno Di dottore E lo proverbio Della mamma ebrea era Il mondo è un vale di lacrime Ma Meglio Piangere con una zuppa di pollo Che senza la zuppa di pollo E questo è Loro arrivano con questo Immenso bagaglio I fratelli Mars E lo si vede Lo si vede anche Con quella Continua Proprio Ogni tipo di conflitto Viene spostato Perché lui fa impazzire Tutti quelli che Tutti i fanatici Quelli che vogliono l'ordine Loro sono il disordine Continuo Non so se voi avete presente Quel contratto Che La storia del contratto E' una storia pazzesca Che E' in quel libro Che raccoglie le cose Di Groucho Marx Quest'uomo è morto Il mio orologio si è fermato Quello famoso Che la Warner Gli scrive una lettera Preoccupata E anche un po' minacciosa Perché lui voleva fare Un film intitolato Anotti a Casablanca E loro che hanno Fatto Casablanca Pretenderebbero Di diritti E Groucho Li fa A pezzi Proprio Risponde Alle loro Serie osservazioni In un modo Che alla fine Questi rinunciano Ed è il modo Di decostruire Ogni pretesa Di potere E ogni assunto Totalitario Che sia in un contratto Perché dice Ma Marx mi fa notare Cos'è E' vostra città di Casablanca Non sapevo Che un Warner Famoso Avesse Colonizzato E comprato Casablanca Li fa neri Li fa neri Poi comincia a dire Che nel suo film Sarà lui A interpretare Il ruolo Di Bordello Una famosa Prostituta Innamorata Di 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 Li fa saltare In mano La stessa idea Stessa di Stabilire Una relazione giuridica Mostrandoli Insensatezza Di pretendere Di avere L'esclusiva Su cose Che appartengono In qualche modo All'immaginario Generale Ma è magistrale Ma è magistrale in quello E poi le sue battute Quelle più famose Quelle più ebraiche Sono celebri Non vorrei mai Essere Membro Di un club Che mi avesse Fra i suoi soci E la tipica Ossessione ebraica Della persecuzione Per cui L'ebreo Ridicolizza L'ossessione Antisemita Assumendola Lui per primo In una maniera Totalmente paradossale Che dice No non c'è bisogno Che voi mi escludiate Non mi accetto io Da solo E' inutile Che facciamo Tutto questo antisemismo Ci penso da solo Ed è chiaramente Cortocircuitare Il meccanismo Se mi si domanda Qual è il tuo film Dei fratelli Marx preferito Io dico tutti Perché i fratelli Marx Non sono tanto Nel loro approccio Alla loro filmografia Ma attraversano il cinema Con una modalità Espressiva Estetica E un umorismo Talmente delirante E speciale Che ciò che ti interessa Quando vai Non è lo specifico film Ma sono i fratelli Marx E il loro modo Di accostare il cinema E di usare il cinema Che mi appassone Però potrei dire Daxo Perché è Comunque Ma io non amo mai Come se mi dicono Il tuo libro Prefetto Come faccio a dirlo Posso dire la Bibbia E escludere il capitale Di Karl Marx Non posso Allora Scherzo naturalmente Faccio anche io un po' Quanto a L'eredità dei fratelli Marx Dunque I fratelli Marx Hanno impollinato L'intero L'intero cinema umoristico Statunitense E non solo Non vedo Questa eredità Nel cinema israeliano Non particolarmente La studiosa di umorismo Ebraico Svizzera Ebrea Salsia Landman Dice Che Israele È un paese Vizlos Cioè senza umorismo Di tipo Di quello della Yiddish Non è vero In realtà È abbastanza Calunioso E ingiusto Però Lo sguardo israeliano Anche quando accede A delle forme Umoristiche È molto Più Figlio Del contesto In cui si è formata La società israeliana Un contesto Conflittuale Progressivamente Sempre più nazionalista Con alcuni miti Lontani Dal mondo Yiddish Anni luce Come la forza militare Come il sentimento Di invincibilità L'umorismo Della Yiddish È basato Sulla fragilità C'è anche Un modo israeliano Di essere fragili Ma è molto diverso Da quello Della diaspora Per cui Io direi Che non c'è Una Specifico Di eredità Dei fratelli Mars Nel cinema Israeliano Anche se Esistono Diciamo La società israeliana E la società israeliana È molto interessante Molto Diciamo Melting pot Come dicono loro Kibbutz Galuyot Collettivo di diaspora Però Ha un suo specifico Che non direi Che non direi influenzato Dal modo di pensiero Dei fratelli Marx Vede Glielo dico anche In termini Politici Antrigimè Fra virgolette David Ben Gurion Primo Primo fondatore Dello stato Israele Primo Primo ministro D'Israele Era un uomo Con un grande Senso dell'umorismo Parlava uno Yiddish Meraviglioso Ma ha fatto Una guerra Spietata Contro lo Yiddish Voleva Cancellarlo Perché Lui pensava Fosse la lingua Dell'umiliazione Come se lo Yiddish Fosse colpevole Di quello che gli ebrei Erano subito È una cosa terribile Una delle cose Più terribili Che è successa In Israele Fatta da un uomo Che quella lingua La parlava Da bambino E la parlava Ancora in ambito Intimo In una maniera Splendente Fortunatamente Non gli hanno dato Retta Ma ha emesso Delle vere e proprie Circolari Per impedire L'uso Dello Yiddish Allora Come si può pensare Un'eredità Dei fratelli Mars Verrà recuperata C'è in Israele Un teatro Yiddish Gli ebrei Sono pazzi E gli israeliani Se non vogliono Totalmente Debraizzarsi A favore Di un'altra Modalità Di Israele E anche possibile Tutto è possibile Dovranno ritrovare Questi valori Finirà un giorno Questa Maledetta guerra Finirà Finirà Ritenere Che La salvezza Sia a fare Da carcerieri Al popolo palestinesi Questa sia L'assicurazione Israele Tutto questo Finirà un giorno E allora Ritroveranno Un giorno Non mi stupirei Che se lo Stato Israele Continuerà il suo Camino La lingua La lingua Yiddish Ritorni E diventi La seconda lingua Dello Stato Di Israele Un giorno Perché no E anche il giudaico Spagnolo Sono lingue Ebraiche E le dirò Qualche piccolo Bagliore di speranza Ho conosciuto Uno scrittore Israeleano Yermi Pincus Giovane Meno che quarantenne Che ha scritto Un bel libro Sul mondo Della Yiddishkeit E Un ragazzo Di grande Delicatezza E sensibilità Il quale È nato In una famiglia Dove si parlava Lo Yiddish E lui Insieme a altri Duecento israeliani Studia lo Yiddish Per parlare Lo Yiddish Vede Tutto è possibile Nell'ambito ebraico Ogni paradosso È possibile Anche il più folle E ecco In questo senso Lo spirito Dei fratelli Marx Sarà una guida Nel futuro Come lo è stato Nel passato E come per me Lo è ancora Nel presente Sarà una grande guida L'umorismo Quel tipo di umorismo Radicale Di rompente Rivoluzionario Anarchico È uno dei più grandi Strumenti Per camminare Verso un mondo Di giustizia Come sempre Gli artisti Gli intellettuali Sono la coscienza critica Di una società Non è una novità Questo Quando la Francia Faceva quello Che faceva in Algeria Jean-Paul Sartre E ignobile Perché se non fosse stata Per la sinistra mondiale Lo Stato israele Neanche esisterebbe Persino Golda Meir Disse Che se non fosse stato Per l'unione sovietica Di Stalin Israele Non sarebbe mai esistito E anche Abba Eban Lo disse Ora naturalmente Stalin era la sinistra Stalin era stato Un criminale Intendiamoci Però tutta la sinistra Mondiale Era con Israele Gli uomini della sinistra Sono morti Nei ladier nazisti Con gli ebrai Questo è uno schifo Uno schifo vero Io stesso Come uomo di sinistra E durissimo oppositore Dalla politica Governale italiana Sono criminalizzato Quando io faccio Le mie critiche Dure Ma sempre politiche Non mi viene detto Da quegli estremisti Di destra radicali Sbagli per questo E questo che è giusto Mi viene detto Nemico del popolo ebraico Venduto traditore Solo perché sono Un uomo di sinistra Che critica Questa destra Pararazzista E Diciamo Con forti componenti Fascistoidi Allora Da voce critica Rimane alla minoranza Come sempre Non mi stupisce Anche Mosè Quando gli ebrei Erano tutti incinocchiati Davanti al vitello d'oro Era rimasto La minoranza Di un solo uomo Che ha salvato Il progetto Non mi preoccupa Essere minoranza Anzi Però è naturale Che sia così La società israeliana È molto narcotizzata Su questa questione Non perché Contrariamente A quello Che pensano Certe persone Che avranno Di fare di tutte Le buon fascio La società israeliana Non vorrebbe la pace Ma è Bloccata Dalla deriva Sicuritaria Anche dalla paura C'è una vera e propria Ossessione Allora Vorrebbero la pace Quei palestinesi Ma non sono capaci Di rompere L'accerchiamento Della paura E del ricatto Sicuritario Che Netanyahu Poi Lieberman E compagnia Bella Stanno giocando Con molta abilità Allora Io conosco Il destino Il cammino Di Fittinstein Che è quello Anche dello storico Ilan Pappé Che è quello Di uomini Come Continuamente Criminalizzati Come il giornalista Di Arez Ghidonevi Come la giornalista Amir Haas Come persino L'ex Presidente Del Parlamento Israeliano Avraham Bur Che ha scritto Un libro su questo Un capolavoro Intitolato Sconfiggere Hitler E anche lui Come la grande voce Di uno dei fondatori Del sionismo Peraltro E religioso anche Che era Yeshayahu Leibovitz Yeshayahu Leibovitz Dopo la La guerra del 67 Diceva Restituiamo questi territori Altrimenti Caderemo Del giudeo Fascismo Fu Insultato Oltre ogni misura Fu chiesto per lui Lo pshas israel Addirittura Che fosse radiato Dall'ebraismo Purtroppo Il nazionalismo È una peste E È vero La Shoah Viene continuamente Strumentalizzata Con la complicità Dei politici Disinvolti Vi chiamo Disinvolti Per non dire di peggio Europei Che vanno a visitare Il Lager di Auschwitz Io la trovo questa Veramente Un atto di falsa coscienza E ne escono Dicendo Mi sento israeliano Ma guarda Guarda È vero che Israele ha una parte Della realità Perché alcuni ebrei Sono andati lì Dopo Sopravvissuti Ma 55% Gli ebrei Vivono in diaspora Oggi E poi Ci sono stati Assassinati Anche i Rom Sono stati Assassinati Gli omosessuali Gli antifascisti I militari Italiani Che dissero di no Al nazifascismo Gli slavi 3 milioni di slavi Sono assassinati Ma nessun politico Direbbe Mi sento Rom O omosessuale O testimone Di Geova Oggi L'operazione Strumentalizzazione Di cui Netanyahu È il principale Responsabile E tutti quelli Che sono con lui È gravissima Rischia Di fare perdere Il valore universale Paradigmatico Che la Shoah Ha Che è un poderoso Strumento Per combattere Contro tutte le oppressioni Ho ricevuto Proprio adesso A Udine Hanno fatto Adesso in gennaio Delle Una manifestazione Di solidarietà Col popolo palestinese L'associazione Italia e Israele Ha protestato Col sindaco A ridosso Del giorno Della memoria Perché a ridosso Del giorno Della memoria Non si può essere Solidari Con i palestinesi Per difendere La ragione Sempre in contrasto Non si può Neanche dire Io sono solidale Con il popolo Palestinese E già immediatamente Ti guardano Con sospetto È una Piaga E la cosa Peggiore È che un giorno Ci potrebbe essere Il rischio Che si parli di Shoah E la gente Venga a dire Cosa volete A noi Shoah È un problema Degli israeliani Sarebbe proprio La distruzione Del paradigma Del valore Etico Assoluto Di quello Che è stata La Shoah E io ricordo Che Primo Levi Ha scritto Se questo è un uomo Non se questo è un israeliano Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.